Buonasera a tutti, oggi faccio una presentazione per rilasciare la parola a Daniele e agli altri del gruppo. Mi chiamo Daniele Brighetti, abito fin via a Correa, ho 88 anni. Faccio parte di questo gruppo da un anno e mezzo circa e diciamo che c'è entusiasmo in quanto siamo un gruppo di giovani che si è preso a cuore in determinati argomenti, in determinati tematiche, dopo aver accorto informazioni, inquisiti e proposte anche delle famiglie per avere dei servizi che siano consoli delle nostre esigenze, di tutto il nostro comune. Naturalmente, come diceva anche Mauro, il sociale sta andando in un posto di struttura, e per cui dobbiamo vivere in un paese che sia portato su misura sia del bambino, sia del giovane, dell'adulto e della famiglia. Per coloro che hanno avuto anche più una situazione disagiata, per coloro che hanno bisogno di essere seguiti, gli anziani, dicendo, e così pure anche i genitori che magari devono essere incertivati nello sport, in varie attività, nelle istruzioni, nelle scuole, che abbiano delle strutture adeguate, confortevoli, sicure, in modo tale che tutti possiamo vivere bene nel nostro paese. Chiudo le mie presentazioni, passo ovviamente la parola anche alla Rinalina, e ci siamo qui, quindi ti parliamo sempre, e non può, insomma, ci sono inquisiti delle domande da fare, e sanno qui. Grazie.